eccoci qua eccoci qua catamarano si sveglia presto per voi guardate dove vi ho portato cala porticciolo patrimonio dell'unesco e domenica mattina ragazzi svegliatevi su dai letti venite venite a cala porticciolo oasi di benessere oasi naturale patrimonio dell'unesco cala porticciolo e adesso facciamo un bel bagno alla vostra salute